Ma ci stavano tutto in tolto Grazie. Non le siamo altavanti. Se poi non hai. La, la teglia. La, la teglia. La, la teglia. La, la teglia. La cosa che ti ha a fare è che non ci sono. No, 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 no. Non ci sono. Passo. Non ho bisogno di qualcuno che quando si può. Non si può. Perché per quanto piccolo la piccola braccia, non ci sono. Passo. Non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Il tempo è dunque visitabile per una settimana. D'accordo, è tutto il passo. D'accordo, è tutto il passo. E' un po' di risultato. Ma va bene. 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 You know, I'm sorry for some part. Pass. Walk it through. Here. Hug it! I got to do it with me. And you moved your leg. And instead, go back. Grazie. E' elettronica, è reale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.